Buonasera, siamo a Miami, via Filippo Bussio, il locale più estremi di Torino e compagnia della bellissima Niki Silver. Niki Silver, come trovate la serata Don Giulia a Miami con noi? Innanzitutto buonasera a tutti, la serata qui a Miami è bellissima, con bellissima gente e molto 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 calore. Divertirsi è stare bene e trovare gente simpatica e uno staff divertente. Il mio look preferito è un po' chic. Ciao!